siamo davanti alla nebbia dei mangia uomini e probabilmente se c'è ragione secondo me è fatto come come la gestoria che ci sono subito già subito un arci demone o comunque finisce vediamo no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho fatto il roll indietro, ho fatto il roll indietro. Niente, è una roba molto pericolosa. Non lo stava andando male, peccato. Peccato. Allora, come danno non sembra far tanto male. Poi ovviamente arriva l'altro e la partita sembra... Poi con l'altro dovresti mandargli fuori invece. Save con il primo devi puntare a non farlo volare. Quando arriva il secondo invece devi puntare a mandarne fuori uno. Con le cariche ovviamente. Infatti non è che le fanno apposta ma... Cioè le spammano proprio, le spammano un bordello di cariche. No, basta soltanto stare attento perché... No, basta soltanto andare... Io prima di andare su ho rischiato. Sono andato solo a solo... Perché devo piantare delle madonne? Devo cercare di andare sul... Sulla rotonda al su di là. Però è difficile andarci su lì. Torno umano, torno ancora umano. Sto pensando cosa... Posso togliere un altro anello. Non c'abbiamo anelli della madonna. Questo qua anche se aumenta... E' proprio in punti ferita. Insieme faccio la combo metto su anche lo scudo. Ma secondo me non va su con... Oh, mettiamo il veleno. Visto che ha veleno lo scudo ovviamente sarà troppo pesante. E... Che cazzo ti devo dire? No, aumentiamo il peso e ci facciamo la roba con la vita. No. Su, di quanto aumento il peso? Eh, boh, che cazzo ne so. Facciamo cos'è. Non c'abbiamo anche il livello di anelli. Qualche colpo in me ne ho fatto, ho visto. No, ci cavo un po'. Non c'collo natural anellistartati con. Non c'abbiamo il Davideliga. Non, c'abbiamo per l'intr wink. Non c'abbiamo. No! 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 Oh! Oh no! Oh! Ho schivato due colpi e non vedendoci. 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 Ho schivato due colpi. 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 Grazie a tutti. 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 Eh sì, ma era così la lotta. Io l'avevo impostata così. Io l'avevo impostata così la lotta. Bella la musica. Anima demone mista. Anima demone mista. Anima demone mista. Mentre ora... Mentre ora... Saliamo di livello. E andiamo avanti... E andiamo avanti per la torre... vita? Vita o resistenza. Vita o resistenza. resistenza al belino. Ehm... 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 ci metto... Ehm... 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 Quanto sarà lungo il percorso? Ah, stasera sarà da di BOT Sicuro Deve essere ancora Oh porca puttana Una vacca puttana davvero Questo si che è un bel mini boss Perché poi non passi Ciao Però sta perdendo sanguinamento God Riesco a fargli ancora un perre E un perre Un backstab Diciamo che Voglio vedere quanto siamo di peso Perché siamo lì lì Dieci Invia Io assolutamente subito a deposito Non è che poi raccolgo un oggetto E volo dentro la boss fight Si sente ancora del ciocco Ok Oh no Che palle Due Oh boy Oh 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 E tocca far così Però che pallo C'è due backstab E una raffica di tracolpi E rischiamo di E io un altro l'ho sentito No, sembra di no Ci sarà subito lui Farà Perry? Non sembra abbia Vediamo che cazzo fa Vediamo, dai Vaffanculo, vada come vada Ha! È giù Grazie a tutti. Grazie. 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 Cazzata. Al momento. Ok. No. Boss fighter è stranzata, infatti. L'anima non ha cenere. La nebbia fitta in colore non si fermerà più. Agente di Nexus e... Cazzo non l'ho visto. Ok. Bello. Non ho visto cosa ho preso, ma forse la sua anima. Colosso, sanguissurba, arbitro. Vecchio monaco, vecchio monaco. Tanto non hanno... Non dovrei aver preso niente di strano, eh. Vedi, viaggiare attraverso le regioni collegate dal Nexus. Ah. Ah, la nebbia in questo caso. Non dovrei aver preso un anello. Ok. Quindi qua ci posso andare? Prima. Quindi lì ci posso andare? Anime, 31.000. Sarà cambiato qualcosa qua? Boh, tanto quelli là me ne ammazzate. Due livelli. Uno e uno. Che la forza sia concessa, così che il mondo sia curato. Che il mondo sia curato. Però facciamo anche quello. Ce lo facciamo, quello. Perfetto, 6.000... Che mi interessavano. Vita. Vita, vaffanculo. Proviamo ad andare nella cosa, adesso. Voglio vedere se ci può andare avanti qua. E se ci fosse una boss fight? No. 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 Grazie a tutti Non credo ci sia già una boss fight La vedo roba e muoversi Ah siamo a Yharnam Ah Kanya Usciranno come a Yharnam 132 Non si può andare a ucciderle ah Insomma non Non sono tranquillo Ma guarda un po' eh E chissà da dove si apre Una bella scorciatoia quella Sento una lucertola Che sarà qua in alto Là c'è un furbetto Sono andato a distruggere Le robe dei cani Scusa del drag link Cavali Ah eccoti qua Sento un po' 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 ferita. In via deposito. Usiamole quando saranno. E' l'uora. Erba calante. In via deposito. Siamo a 98 però abbiamo il guante del cavaliere. Ok. C'è niente qualcosa lì? Vale come attacco sì. C'è anche livello di pareti invisibili. Ho dovuto subire danni ma ne valeva la pena. Ma perché sti studi? Ah è così là. Mi vuoi spedire nella nebbia? Oh. 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 ho fatto i formi ma li faccio anche io boh e i tuoi arcieri del cazzo non ci hai più forza porco roba pieno bravo devi scappare vai qua dentro è un casino allora abbiamo la nebbia di qua oh ah di nuovo tu ma guarda un po' spero troverai qualcosa di tuo gusto è una crescente arma bezza però pace fa 100 in meno si vado lunga clava lancia corto scudo non male 20.000 ascia quanto ha di e scudo il cavaliere il re è impazzito come tutti gli altri o forse era già pazzo prima con questi nobili babbè non si può mai dire è la fine della grande malvi tempi sono sicuro che ma 4.000 10 6 tanto per e 4 tanto per tanto boh dargli qualcosa vediamo cosa fa nobili bambini nobili bambini oh spada possente spada possente la 2 under nei souls è 2 under 26 a forza 130 a 2 under beh far proprio 130 e beh ovviamente non fa un cazzo però due mani si 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 è bello ha due mani si frega poco ah ecco ti dunque ma scusa eh perché tanto tu sei come i giudici a stonefang ma quella nebbia invece non sembra no perché arrivare fin qua insomma c'è il suo percorso poi poi io magari lo rifai una cazzata questa è la parte iniziale sento ca' ci sarà un boss chi lo sa eh ho stato programmato male ci sentono i cani e sono sotto ancora erba piena stanno dando a badilate ok 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 eh lo so erba nuova chiavi di ferro che è di ferro probabilmente apriranno 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 magari lo shortcut non ero i chiavi di ferro sembrano tutte uguali eh cosa sono chiavi che aprono tutte le porte che 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 non si aprivano non sono andato lì ma non c'è niente poi ci sono tutti i percorsi quelli a a metà strada out ok qualcosa non è andato tu da dove arrivi ok non posso buttarmi giù ok ok ho trovato il percorso arca qua eh ho visto vieni 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 out lì vieni ok le arbe a pieni ne abbiamo cinque via le arbe a pieni ne abbiamo cinque Cominciamo a usare le arbe calanti Quanti ne abbiamo? 19 23 Teniamocene qua Perché cominciano a recuperare poco Le calanti Qui siamo qua Ah ma ce ne sono di più Diciamo che fosse questo il nostro ragazzo Invece quello là Mentre qui invece Ora là il ponte Lì mi sa che non è un'area dove andremo Io lì non ho spaccato niente Ma non credo sia So che vi è attaccato la porta Per qualche strano motivo Non si apra Non è nessuna porta che si apra Non c'è sentito C'è un ciocco strano Qualcuno che sbuffa male Ah salve Oh 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 Se non perdeva L'equilibrio Ero morto Lì però Va bene Sento un respiro Cupo Ah ecco PTC sentiva E lo scudo lì T'hanno fatto l'animazione dello scudo Ma Ah ok Tanto se ti butto giù Ti rompo l'equilibrio Fatti Finché ti rompo l'equilibrio Va sempre bene E noi stiamo andando su Aia Chi è che mi ha preso Fammi guardare Cosa c'è qua Allora voi Grazie Grazie Insomma Ho l'arco Tutto un percorso Uno zig zag Vai su vai giù Questi qua Che ti rompono i coglioni Ah eccoci Un altro lì Erba piena Che te la tirano Dietro Ti tirano i vasi Di erba piena Qua invece Vai giù Beh vabbè Voi ora che arrivate Ah beh Fate presto Anche Ah no Niente Vedo che c'è Vedo che c'è D'interno Ma forse Non si Fatto così E basta Qua volendo Qua volendo ci si butta giù Si corre C'è un altro lì C'è molta gente Sembra un po' Madonna cosa cazzo c'è di dentro Sembra un po' Quando L'altura Cioè Quando sei in alto Una biblioteca In Jackson Stradale Lothric Insomma Un sentiero Con un po' Di Demici Rompicoglioni Mi ricordo Che c'era Una strada Questa Con bien Arroba mezza Quelli sono Quelli che mi stavano Inseguendo Lì probabilmente Ah infatti Si tira la leva E tagli tutta l'area Non male Ciao dai Vieni qua Dai Desce di qua Ci c'è su qualcosa Che Arrivo Che L'ho capito Per sbaglio Vieni qua Dove è andato Mi devo la vita È la terza volta Sono davvero Indebito con voi Questo è Tutto ciò che ho Ora devo andare Il re Mio padre Mi attende Forse potevo Non parlarci Adesso Vedete Adesso dobbiamo Cominciare A picchiare tutti Secondo me Non entra nella nebbia Almeno Secondo che ho dato Erba piena Se invia tutto Cappello dell'ufficiale Ah ufficiale Si chiamano Ah beh Allora se vai giù Chi se ne frega Allora vado a fare un giro Con tutta la calma Del mondo Però C'è un punto Che non abbiamo guardato Prima Che è ovviamente Il cancello La Sicuramente le chiavi Aprono quel cancello Non si apre Fin come ora Va in giro A Vascar Di là Chi se ne frega Basta che stia vivo Bella sorpresa Questa Suo padre Il re È in via Deposito Ormai non ci abbiamo più posto Brutti strunzi Madonna quanta gente Tre cavaliere Vabbè Eh Potenziale Miracoli Adesso però Le pompatini Miracoli Non sarebbe male Perché ci stiamo umani Allora Perfetto Così tu Però Adesso si aggrato L'altro Giusto No? Sì Aia Ste roba A giro Dove Dove andare a Erba piena Madonna quante Anima di soldato Anima di soldato Non stiamo trovando Niente Che ci potenzi Sì Si è intravisto Qualcosa Uno per volta Va bene In tre Diventa Diventa pesante Con la lancia Con la lancia Ce l'abbiamo Resistenza Al veledo È praticamente Inutile Quindi Otteniamo più anni A questo punto Ah sì Abbiamo finito Le frecce Visto che abbiamo Finito le frecce E le chiavi Perché poi Manca anche Un altro pezzo Ovvero Su tutti Si cancelli Peccato Che non si aprono Lì vai Verso la nebbia A me Non mi interessa La nebbia Mi interessa Proprio Eh mafì Avesse la spada È un conto Però Visto che ci hanno Una lancia Eh vedi Sì qua In due Sono una rogna Sì qua Ecco infatti Oh no 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 Eh lo sapevo che succedeva Cazzo Porca ma doi Ma porca puttana Voi il vostro Argo di merda Porca puttana Niente Eee Basta Sì qua Sì qua Godo Porca puttana Eee Coso Porca madonna Eh ma infatti Quando si va Poi tra l'altro Avevo con l'arma Danneggiata Se non avevo L'arma danneggiata Sai che uno Sai che Quella la Botevo forse Ammazzare Anche poi Sì ok Mi sarò anche Allontanato Ma C'era 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 quello là Da dietro Che mi rompeva Troppi Coglioni Poi 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 quello là Si era girato Quindi era Andato dietro Poi io la nebbia Non ci vado Poi la nebbia Non ci vado Sì ma Che due Coglioni Ma È possibile Che Per Dio Costano 5.000 Ste Merde Qua Per Dio Ammazzi Due Cani Arrivi Qui C'è un po' Di Gente Però Se tu Rushi Non ti Becca Quasi Nessuno Sei Bravo Però Ho troppe Anime Porca Puttana Niente Vado a livellare Vado a livellare Porca Troia Mi state Stato sul Cazzo Però Qua Ci sono ancora Dei posti Da fare Abbiamo anche La via La sotto Probabilmente Ci si arriverà Da qua Dentro Da qualche Parte Niente Stato sul Cazzo Porca Puttana Vado Ciao Ben bene La Posso forgiarti Riparare Tutto Col Cazzo Torna Vivo Mi piace Che cosa Faranno Visto che L'altra È finita Figa Cazzo Mi dispiace Tre Mela Prendiamo Prendiamo le frecce Due Che butteremo A Resistenza Tanto che Cazzo Devo potenziare Ah I miracoli Andiamo a due Andiamo Andiamo Sì Senza Di uno Eh sì Resistenza Abbiamo Abbiamo Della stamina Sì 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 A vita Vedo che Siamo anche Abbastanza Coperti Sì Ovvio Magari Quando Quando siamo Non siamo cose Non siamo umane Dammi un po' di frecce Stronzo Ah sì Scusa Lo faccio da qua Undici Per il momento Buttale al deposito Per il momento Non servono Un e cinque Oh le bombe Sì le bombe Buttale tutte via Questi schifi Qua Potere Abbiate Saga Permette Proprio Le navi Vado Perché Le recuperate Lentamente Ah Invece Sì Perché Non le Butte Giù Tutte Siamo 87 Svada Possente 10 Ma porca Puttana Uchigatana Stocco Arco Catalizzatore Tarismano Questi scudi Marce Vai giù Vai giù Aramature Non abbiamo trovato Niente di che Anelli Beh 16 Boh Mi fermo qua Ci vediamo Un po' Non lo so Domenica O Non credo Nel weekend Alla prossima Siamo